Gentili telespettatori, buona giornata, colpo di scena, così cambia tutto perché azione tramite la Gelmini dice parliamone sulle riforme. E quindi cambia completamente il quadro, ma con dei distinguo. Meloni e il governo aprono sul premirato perché il presidenzialismo non si può fare. Perché non si può fare? Non si può fare perché per le riforme costituzionali ci vuole una maggioranza diversa, ci vuole una maggioranza qualificata di due terzi, ci vuole il 66% dei parlamentari che dicono sì alla riforma costituzionale, se no non si può fare. Eventualmente si può provare a fare un referendum, ma i referendum falliscono tutti. Quindi la Meloni è consapevole che se non si passa dal Parlamento col referendum non si va da nessuna parte. Quando la Meloni ha parlato con i vari partiti, Calenda e Renzi hanno detto presidenzialismo no. Premierato e presidenzialismo sono due cose molto simili, perché si parlava dell'elezione diretta del Presidente della Repubblica, l'elezione diretta del Capo del Governo. La differenza era che si voleva passare tutti i poteri del Capo del Governo al Presidente della Repubblica, cioè come in Francia il Presidente della Repubblica avrebbe fatto quello che fa oggi il Capo del Governo. Quindi il Capo del Governo sarebbe diventato praticamente una figura ormai insignificante, e non sarebbe servita nulla perché tutto avrebbe fatto il Presidente della Repubblica. Eletto dai cittadini e avrebbe deciso tutto lui, sarebbe diventato lui l'autorità politica, non più un guardiano della Costituzione. Ma Calenda dice no. Il presidenzialismo no. Il Presidente della Repubblica rimane quello che è con la sua funzione di garanzia. Il premierato, sì, era anche quello che voleva fare Renzi, il famoso sindaco d'Italia. Il premierato significa che il Capo del Governo ha dei poteri più ampi e viene eletto direttamente dai cittadini e non nominato dai partiti. E così il colpo di scena è che il partito di Calenda dice parliamone. Il tavolo delle riforme resta aperto, anzi apertissimo, scrive un giornalone. La seconda ipotesi, quella del premierato, al posto che il presidenzialismo potrebbe far convergere e avere i numeri necessari per passare in Parlamento. E così Maria Stella Gelmini, Vice-Segretario di Azione, il partito di Calenda, intervistata dal messaggero, dice che sulle riforme costituzionali per ora abbiamo assistito solo a un doppio giro di consultazioni, prima da parte del Ministro Casellati, poi da parte del Presidente del Consiglio. Ma ancora non c'è una proposta organica. Se tuttavia fossero vere le indiscrezioni che raccontano di una volontà di Meloni di tenere fuori il Quirinale dalla riforma, saremmo di fronte a un passo avanti significativo. Per noi era la precondizione per avviare un confronto. E aggiunge che la strada giusta non è il presidenzialismo, né nella sua versione pura, quella americana, né in quella mediana, del semipresidenzialismo alla francese. Il Presidente della Repubblica per noi deve restare arbitro, non giocatore in campo. Quindi sì, l'opzione migliore è quella del premierato. Se ne può discutere, anche se da solo non è sufficiente. Così un'apertura sul premierato, quella che arriva dalla Gelmini. Non arriva da Italia Viva il partito di Renzi, che Renzi comunque ha tutte le sue tattiche, aspetta. Renzi cerca una sua convenienza, sapete. Renzi non fa nulla per nulla, quindi Renzi vuole rimanere protagonista, lascia tutto in sospeso. Però il silenzio di Renzi in questo momento non significa né no, né sì. Insomma, la convergenza sul premierato potrebbe allargarsi e potrebbe far passare questa riforma costituzionale. Gelmini dice che con Italia Viva sono ancora alleati, lavoriamo insieme nei gruppi parlamentari, e insieme siamo andati alle consultazioni della Meloni sulle riforme istituzionali. Anche se resteremo due partiti diversi, la posizione è la stessa. Quindi la Gelmini parla anche a nome di Renzi, chissà se Renzi è d'accordo che la Gelmini parli anche a nome suo, ma lei fa intendere che siamo d'accordo su il premierato e sul no al presidenzialismo. E sembrerebbe proprio che la Meloni voglia convergere su questo, perché ha capito che o è così o non si fa. Questo è semplice, perché le riforme costituzionali con referendum sono un fallimento. Avete visto l'ultima? La riforma della giustizia, le raccolte firme con le code, raccolte il doppio delle firme che servivano, il triplo, poi arriva la data del referendum e nessuno va a votare. Dopo che c'erano i gazebo pieni, le code per firmare, il referendum interessa, e non si è raggiunto il quorum del 50% degli aventi diritto. E così la riforma della giustizia è completamente saltata dopo soldi, perdite di tempo, gente che ha impegnato domeniche a raccogliere le firme nei banchetti, eccetera, eccetera. Tutta una gigantesca perdita di tempo. Non è servito a niente. Perché? Non è che agli italiani non interessasse quella riforma, è che gli italiani non avevano nessuna voglia di uscire per andare a votare. Questa è la realtà. Non avevano nessuna voglia di andare a votare. Era estate. Non sono andati. Hanno preferito fare qualsiasi altra cosa piuttosto che andare a votare per un referendum. Pensando tanto ci vanno gli altri. E' un po' come quella storia di quel cane che ha sette padroni e muore di fame perché tutti e sette dicono ma andranno gli altri a dargli da mangiare. Così non ci è andato nessuno. Beh, questa è la storia delle elezioni. Ma ci vanno gli altri e poi non ci va nessuno. E il referendum fallisce. Grazie a tutti per avermi ascoltato. Vi auguro buon proseguimento di giornata. Ci vediamo al prossimo video tra una ventina di minuti. Quindi grazie a tutti e arrivederci a presto. Ci vediamo tra una ventina di minuti. Ricordatevi che c'è anche Teleitalia, seconda rete. Grazie e buona giornata.